Ma la battaglia della storia non gliela faccio più. Allora io il mio video dovrei iniziare così. Che nella mia vita ho reso grandi servizi a me. Craxi era e resta un avventuriero della politica. Così ha detto Berlinguer. In nessun dibattimento è emerso che l'onorevole Craxi si è mai arricchito. Nessun paese europeo da solo può far fronte alle sfide del nostro tempo. Non è un'Europa in cui la modernizzazione diventi brutalmente sinonimo di disoccupazione. Lasse franco tedesco un grave errore. La cosa più ragionevole di tutte era quella di richiedere e di pretendere la rinegoziazione dei parametri. Significa la soluzione. E' il mio! Eccolo! Eccolo! Il paese dal secondo semestre del 1992 a grande tutte queste robe che hanno fatto non è più cresciuto. Il pianista un positivo. Eccolo!